Ecco comincia l'esibizione dei primi calci con la classica maglia giallorossa sono i bimbi della Virtus Castelfrentano con la maglia giallo-verde la balle a ventino a gol, gol, palla interno palla centro ecco lì parte con la palla centro, ecco bravo uno marca un giallo, ognuno marca un giallo, Leonardo non sei perso, guarda lì là con le mani, con le mani vai Leo vai in porta vai in porta lì facciamoli giocare, facciamoli giocare ecco vai dai Leo attacca la valle a ventino fuori fuori pallone fuori si si fuori 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 ecco